Cari lettori di Caffeina, auguro un buon inizio settimana a tutti voi. La modella ed influencer Emily Ratajowski avrebbe un nuovo fidanzato. Diverse sono le voci che si rincorrevano già da diverso tempo. I due sono stati inizialmente paparazzati insieme mano nella mano, ma ora sono stati pizzicati anche ad un incontro sportivo. La Ratajowski aveva deciso di divorziare da suo marito Sebastian Birmeklart a causa di un suo tradimento e ora l'addio sembra essere più che definitivo. I due nuovi fidanzatini si sono recati al New York Madison Square Garden per assistere all'incontro di pallacanestro NBA tra i Memphis, Sklitzis e i Knicks. Ma non è solo la supermodella ad essere famosa nella coppia, infatti il suo fidanzato è un comico altrettanto noto e udite udite ex fidanzato di Kim Kardashian, con la quale ha chiuso una relazione soltanto lo scorso agosto. Il suo nome è Pete Davidson ed è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione al Saturday Night Live. Insomma, i due fidanzatini sono apparsi molto felici e affiatati allo stadio new yorkese e i Knicks hanno postato alcune delle loro foto insieme. L'inizio della loro storia risale a poco tempo fa durante quell'abbraccio paparazzato per le strade di Brooklyn, ma ora entrambi sembrano fare sul serio. Alla prossima, ciao!